One Paddle a tutti! Mi piace questo entusiasmo, non piace questo entusiasmo? Bull Paddle Ionic Power. Ragazzi, ragazzi, ragazze, una... Bull Paddle, questo mi ha sorpreso. Aspetta, potrebbe essere il nuovo Best Buy 2024? Punto di domanda. Alla fine del video daremo la risposta. Ma questo è un po' di ansia, sai, perché volevo andare a vedere tutto il video. Allora, Bull Paddle mi ha sorpreso tanto, dove? sull'estetica. Ragazzi, bravi, bravi, bravi. Mi piace tanto, perché se sull'abbigliamento siamo su una linea un po' più, diciamo... Sportive, sportwear. Sì, sì, semplice, che puoi anche mettere una maglietta. Adesso mi piace, perché puoi anche uscirci con le magliette dei Paddle. Sì, assolutamente sì. Non vi vergognate di uscire con le cose del Paddle, perché prima tutti giocano al Paddle, quindi fatelo, fatelo. Ma esteticamente è molto bella. Non dico come fa Daniele, che è cangiante, perché poi mi sbaglio, perché lui, io dico rosso, lui mi dice che no, è un tendente ad un colore inesistente. È molto graffiti. Cioè lui si inventa colori che non esistono. Eccolo, il graffiti è uno stile, quello che fanno sui muri, murale, si vedi come ha questa scritta così, che questa è bella, ma c'è sta la Control, che è ancora più bella. E la porteremo, la porteremo. La linea Ionic e Power e Control, bravi. Estericamente bravi. L'accetto, classico, l'accetto a cappio che piace, perché è morbido, non c'è quella fascia che c'è scritta Bull Paddle, ma piace, è comodo, lunghezza giusta, esce dal centro, non è intercambiabile. La cosa che mi dispiace è la lunghezza del manico, ma quella è una cosa mia, io amo il manico lungo. Questo è un manico invece standard. Classico, 12 cm che fanno ormai, penso, appressa in fabbrica. Ok, partiamo su... Il fondello mi piace. Il fondello mi piace, perché è bello, comodo, tutto quanto, non si cambia l'accetto, ma io sinceramente l'accetto non lo cambia, mi piace questo qua. Allora, come lavate il laccetto voi, come lo lavo io? Quando sudo, soprattutto d'estate, non d'inverno, fortunatamente prendo il martedì l'accetto, lo metto un po' di sapone, un po' d'acquetta, lo strizzo per bene, lo impropupo. Diciamo che quello con la polsiera è più difficile da fare, però si può intercambiare. Si possono cambiare anche i colori, ma va bene. Quindi dicevamo, manico 12 cm, saliamo un po' sul sistema antivibrazione. Parliamo della Ionic Power, già Power ci fa capire che il nome è potente, quindi servirebbe, serve... Scusami. Potenza, sì, ma. Oggi gli ha preso a far così, no? Potenza, sì, ma. Ok, ma poi si dirà che c'è dopo il mare. Un doppio ponte di bull paddle che aiuta tanto a ridurre le vibrazioni e una racchetta che grazie al suo piatto in carbonio... Sì, aiuta a ridurre le vibrazioni, ma anche a stabilizzare la pala. È una pala abbastanza rigida nel telaio e questo ponte qui, trasversale, aiuta a stabilizzare nei colpi anche dei centrati. È importante dirlo, perché questo qui è importante farlo. Ecco, se era importante, l'abbiamo detto, era importante, abbiamo puntualizzato quel che nessuno ce ne sa dire che non l'abbiamo detto, ecco. I piatti sono in fibra di verro e in fibra di carbonio. Si chiamano? Glafite. Glafite, com'è che era? Glafite, sì. Glafite, hai detto giusto, come è che è i coglioni lui. Allora, quindi, cosa succede con questa glafite, questo ottimo sistema antivibrazione? Che la racchetta spinge a un effetto, ragazzi, se la cosa mi ha sorpreso, ve lo dico subito, l'effetto elastico, l'uscita di palla. Bravi, bravi, bravi. Ed è questo, è quel ma a cui mi agganciamo prima. Potenza, sì, ma non potenza pura, potenza gratuita, quella che potete trovare trovato sulla Technical Viper, sulla Varlion. Poi di Varlion non parleremo tra poco. È una potenza elastica, una potenza accompagnata, un'uscita di palla veloce, ma non secca. Sì, è vero, cioè, grazie, però dobbiamo metterci anche che Bullpater su questo ha utilizzato sempre la sua famosa gomma multieva, quindi il mix che c'è, perché non voglio dire che tutte le racchette sono, non so, tutte le racchette uguali. Multieva, ovvero una gomma più strati all'interno, fibra di carbonio e fibra di vetro, il sistema antivibrazione che fanno di questa racchetta, una racchetta di spinta che c'è un'uscita di palla, fantastica, fantastica. Verissimo, punto dolce, decentrato verso l'alto. I due punti sfavorevoli sono probabilmente il peso, che non in questo caso, perché in questo caso siamo poco sopra i 360 grammi, ma viene dichiarata tra i 365 e i 375 grammi, quindi se andiamo a prendere una palla bilanciata a 27,2 come in questo caso, con un peso di 375 grammi, diventa davvero un po' scomoda da gestire. La potenza mi aspettavo molto a più potenza, dovevo immaginarmi che con i piatti in glafidi comunque l'elasticità fosse buona, però mi aspettavo più potenza, più potenza gratuita, che invece non ho trovato, non ho trovato. Che però ragazzi non è che è negativo, io non la vedo un po' negativissima come cosa, perché ti permette di avere una racchetta di spinta con bilanciamento alto, che non ti fa avere fastidi, ma che ti permette di giocare, quindi a differenza prendiamo sempre i fucili a pompa, Tecnical Viper, Deltapro e tutte queste racchette molto cattive, cioè con lei riesci ad avere un po' più di morbidezza, meno cattiveria, ma avere una racchetta di spinta, quindi trovi quell'equilibrio che ti serve quando magari non stai proprio a livelli professionistici, ma che riesci a gestire una racchetta bella di spinta, cioè a me piace. Sì, assolutamente sì, buona, buona, soprattutto a me piace la rugosità dei piatti, completamente ricoperti da questi piccoli bottoncini, puntini, a rilievo di diversi, di diversi diametri, quindi di diversa grandezza, che ti aiuta tantissimo nelle smorzate, nei colpi quelli pochino più tecnici, in rullagrada dove serve un pochino più di kick effetto. Il telaio è in carbonio, irrigidito dal classico sistema Next Force, che sono queste scanalature qui, di bullpadel, quindi buona stabilità, buona pala, buona rigidità della pala, buono anche secondo me è un punto a favore dell'elasticità dei piatti che aiuta l'uscita di palla, ha un'ottima, davvero un'ottima uscita di palla. Quindi detto questo, promossa su tutti i punti di vista, promossa sull'uscita di palla, posso dire il punto a favore enorme anche, qual è? Sì. 170 euro. 184,99 per l'elasticità. Di listino, swappadel.it, codice sconto padel lovers, la pagate ancora di meno, quindi ragazzi a 150 euro su swappadel.it, potete trovare anche questa qui usata, è un affarone se la comprate subito dopo sto video, perché è lei che andrà a finire nel listino di swappadel, esatto. Sempre col codice sconto, perché anche sull'usato c'è il codice sconto, cioè voi avete una racchetta che è tanta roba, quello che dico sempre, ormai questa cosa diventa mia, non ci vergogniamo a avere una racchetta che non è top di gamma o che non ci ha paghito una barra, no perché a me tutti dicono non è full carbon, non ce l'ha paghito una barra, no, è un'ottima racchetta, costa poco ed è fantastica. E adesso, prima di dirvi come si comporta in campo, vi rispondo alla domanda, è il Best Buy 2024, non lo so ancora, semplicemente perché mi riservo di provare la Control, quindi sceglierò il rapporto qualità-prezzo tra lei e la Control, devo dire che la Control sta un filino più avanti perché mi piace più esteticamente, ma andiamo a vedere come si comporta in campo, da fondo campo è tanta roba, è davvero tanta roba, è la classica racchetta che a me piace, perché ti dà quella elasticità, il punto dolce spostato verso l'alto comunque è abbastanza standard, ma abbastanza comodo, il bilanciamento ti aiuta anche nei recuperi quelli difficili, occhio perché la graffiate andando a rete, a pavimento, però quello c'è sta, però veramente tanto comfort da fondo campo, bene i pallonetti, serve un pochino di controllo per non spararli proprio per via della sua uscita di palla gratuita, dritto e rovescio molto bene, dà a rete leggermente meno bene perché è una racchetta scomoda, ovvero non è proprio maneggevole, non è assolutamente maneggevole, comunque sia va gestita il piatto oversize, forma diamante, quindi va spinta, va gestita, Marco, va gestita, va gestita. Se qualcuno vuole gestire, gestire, però ragazzi, però mossa, ripeto, a piedi modi. E dall'alto, finisco dall'alto due secondi, poi basta, giuro. Però così, sono andate in dodici, dai, su. Tornate perché dall'alto lei è perfetta, vi dà tutto quello che avete bisogno, kick, bandaghe semplici, bibore, smash, smash col kick, lei è la racchetta che fa per voi, guardate qua sotto. Se cercate qualcos'altro, diteci perché sono studiato fino a 5, guardate che bel braccialetto che c'ho, l'Eis gioielli, andatelo a vedere perché l'Eis fa dei gioielli molto molto belli, comunque, racchetta promossa a pieni voti, la trovate su suapadel.it, seguiteci su padel-lovert-italia su Instagram, TikTok e Telegram, perché tanti sconti, dateci una mano, vi ringraziamo per i tanti messaggi che ci mandate, che dirvi più? Ah no, sì, diciamolo, perché su Telegram e su TikTok la recensione la fate voi, volete sapere come? Andate a vedere là, va? Vamos!